Ciao a tutti, io sono Gregorio Zanacchinuti e sono il game director di Monster Chef, che è il progetto che stiamo portando avanti con il nostro team Studio Pizza. Noi siamo appunto, come ha detto Ivan, uno dei team vincitori del bando per l'edizione di quest'anno e ci siamo presentati al bando portando una demo che includeva soltanto metà del content che volevamo fare. Quindi quello che mi capita sempre di dire è esortare a presentare comunque qualcosa, anche se non dovesse essere super polishato, anche se non dovesse essere esattamente quello che avete in mente per il prodotto finito. Ovviamente la cosa importante è buttarsi, fare e se l'idea c'è, comunque sia le istituzioni e la giuria è decisamente recettiva. Ci sono stati dati appunto i soldi del fondo, abbiamo avuto modo di continuare a sviluppare l'idea beneficiando dei feedback di un sacco di professionisti di settore e adesso abbiamo una demo che si sta avviando ad essere una vertical slice che peraltro è in prova al nostro stand, quindi invito tutti quelli che fossero interessati o incuriositi a venirci a trovare al termine dell'intervento. E adesso vi facciamo vedere il trailer del progetto per come è adesso. O forse non ve lo facciamo vedere. C'è un tecnico in sala. Ce la facciamo eh. Ma è il fatto che tipo tre... E' la roba di Apple che ha i tre schermi, tipo. Ok, ci siamo. Prego. Ok, ci siamo. E questo appunto è il progetto a cui stiamo lavorando, vi descrivo un attimo di che cosa si tratta, poi lascio la parola a Roberto che ci racconterà qualcosa di come ha gestito al lato art, visto che lui appunto è il nostro lead artist e il gioco è un hack and slash con componenti gestionali, a noi piace chiamarlo un cook and slash perché invece di dover uccidere i mostri li devi cucinare in combattimento. Noi siamo uno dei membri dell'ordine precisoso della buona forchetta, un ordine di cuochi guerrieri nel mondo fantasy di delizia e dobbiamo cucinare in combattimento i mostri tradizionali del fantasy e servirli a tutti gli avventori della nostra locanda che saranno appunto esponenti di tutte le tribù fantasy classiche come gli elfi, gli orchi, ognuno appunto con i suoi gusti infatti appunto di cucina. E passo adesso la parola a Roberto che ci racconta qualcosa sul processo creativo dietro l'ideazione dell'aspetto visuale del mondo di delizia. Ciao a tutti, io sono Roberto Dagnano, mi sono occupato del, sono l'artist principale del progetto, il lead artist e mi sono occupato dei concept, delle animazioni, dei personaggi e dei mostri principalmente. Abbiamo anche un environment artist che è invece Francesco Guarnaccia, sempre guidato comunque da me e Gregorio che ci occupiamo della direzione artistica. Il progetto è animato in maniera tradizionale, quindi sono frame disegnati a mano, frame by frame, quindi non utilizziamo dei puppet, almeno non su tutte le cose, alcuni personaggi sono fatti così e sostanzialmente il mio lavoro è quello di creare dei mostri assieme a Gregorio, facciamo una cernita di mostri possibili che potrebbero essere sia minacciosi che deliziosi poi nei piatti una volta cucinati e nulla sostanzialmente, io bene o male come avete visto ho questo stile cartoon che poi utilizzo anche nella mia produzione personale perché io sono un fumettista e lo abbiamo pensato assieme che fosse il look ideale per questo tipo di gioco che comunque è una componente fortemente umoristica anche e buffa, quindi questo è e nulla, direi che bene o male la direzione artistica insomma la potete vedere, quindi è questo. e concludo l'intervento dicendo che visto che mi è stato detto che ci sono gli studenti di informatica in sala noi in questo momento siamo alla ricerca di programmatori Unity perché vogliamo potenziare questo aspetto della nostra catena produttiva per riuscire ad arrivare meglio alla presentazione della Vertical Slice per cui chiunque fosse interessato abbiamo un QR code al nostro tavolo per appunto mandare curricula e portfoli se ne avete quindi chiunque fosse interessato a lavorare con noi venga al banchetto che ci facciamo anche quattro chiacchiere. grazie Grazie.